Due settimane fa si è svolta qua a Milano pre-COP, una conferenza preparatoria in vista della COP26 di Glasgow, cioè la conferenza delle parti per il clima, che si terrà a Glasgow in Scozia per l'appunto dal 31 ottobre al 12 novembre. È letteralmente la conferenza per il clima più importante del decennio, se non del secolo. Infatti a Glasgow, che viene 5 anni, 6 anni, in realtà dopo gli accordi di Parigi, tutti gli stati dovranno portare i loro impegni volontari di riduzione delle emissioni. Qui a Milano dal 30 settembre al 2 ottobre si sono trovate ben 51 delegazioni, da 51 stati diversi, proprio per discutere quali erano i temi sul tavolo da portare poi a Glasgow. E appena prima di Glasgow, tra l'altro, ci sarà sempre qui in Italia, a Roma, il G20, la riunione finale plenaria del G20. Ed è molto importante che i temi discussi a pre-COP, come la fuoriuscita a livello mondiale dal carbone, l'accordo per passare da più 2 gradi a più 1,5 gradi, lo stop ai finanziamenti esteri e ai combustibili fossili, passino anche dal G20 e dalla plenaria, perché l'80% delle emissioni deriva proprio da questi paesi. Sui tavoli di discussione le ipotesi sono abbastanza le solite per chi segue queste trattative da anni, ossia di chi è la responsabilità di queste emissioni. Le responsabilità vanno assolutamente divise a livello globale, serve uno sforzo di collaborazione decisamente senza precedenti. Si vuole in questo momento andare a tagliare del 50% le emissioni entro il 2030 e andare ad azzerarle entro il 2050. zero emissioni nette, come richiede l'IPCC, l'autorità mondiale per il clima, se vogliamo avere la speranza di mantenere l'aumento di temperatura media globale entro i più 1,5 gradi. Una cosa molto importante da sottolineare è che nonostante l'incredibile accelerazione degli ultimi 2-3 anni a livello mondiale, quando ormai il clima è al centro di tutte le agende del mondo, che sia G7, G20 o le conferenze per il clima, l'aumento degli sforzi non è stato in realtà finora minimamente sufficiente per raggiungere quelli che sono gli obiettivi climatici globali. Noi dovremmo rimanere al di sotto di più 1,5 gradi di aumento, ma attualmente, secondo Climate Action Tracker, gli obiettivi degli stati ci portano a fine secolo a più 2,7, quindi ancora molto lontani dagli obiettivi. E questa cosa, soprattutto, è molto pericolosa perché rischiano di innescarsi dei punti di non ritorno, ossia non sappiamo precisamente a livello scientifico cosa potrebbe accadere a più 2,1 gradi, più 2,2 gradi, quando i ghiacciai potrebbero eventualmente collassare lasciando magari senza acqua decine di milioni di persone, penso alla zona del nord dell'India o del Pakistan o del nord della Cina. Insomma, sono questioni estremamente urgenti perché sono questioni poi non solo ambientali, ma incredibilmente sociali ed economiche.